Le caratteristiche che andiamo a ricercare sono sicuramente la flessibilità, intesa come la capacità di adattarsi e adeguarsi a diversi contesti. Altre caratteristiche fondamentali sono la propensione al lavoro in team, così come sono la curiosità, la voglia di imparare, la proattività. Infine la conoscenza della lingua inglese è sicuramente un requisito indispensabile, poiché ogni giorno ci troviamo a confrontarci con o colleghi o clienti stranieri. Un candidato per entrare in Mazar deve avere sicuramente un'ottima propensione a lavorare in team, deve avere una sensibilità con i numeri che deve essere necessariamente ad alti livelli e deve avere una propensione a lavorare in un contesto internazionale. Un'altra delle nostre priorità è sicuramente la diversity inclusion che viene considerata a livello global in Mazar proprio come un fattore chiave per migliorare la produttività, l'innovazione e sicuramente anche per migliorare il clima che si respira a livello aziendale. Ciao, mi chiamo Maria, sono greca e mi sono candidata in Mazar perché è stata l'unica azienda che mi ha offerto l'opportunità di lavorare in un contesto internazionale e multiculturale. Sono contenta di far parte di questa azienda dove la diversity è un valore. Come consiglio per chi viene a effettuare un colloquio qui da noi dico preparati, informati sull'azienda, sul ruolo che vada a ricoprire e soprattutto fai tante domande perché è importante che tu arrivi a casa con tutti gli elementi per poter anche tu fare la tua scelta. Stiamo sempre cercando nuovi Mazar per cui vi aspettiamo. Stiamo sempre cercando nuovi Mazar per cui vi aspettiamo.